Sono i residenti del quartiere Stazzone che attendono la conclusione dei lavori da circa due anni per il tratto di strada di via Cinirella, che ad oggi è ancora un cantiere. Eppure, almeno su carta, la data prevista era quella del 2 dicembre 2020. Il tratto stradale sarebbe una soluzione per raggiungere il centro con maggiore sicurezza rispetto alla discesa ripida di via Stazzone. Siamo quasi isolati perché c'è questa strada di nuova costruzione che è bloccata da quasi due anni, mi pare, non sappiamo il motivo. Poi la via Stazzone praticamente è abbandonata a se stessa. Quando ci sono piogge abbondanti eccetera e ci sono fanghe sul bordo della strada che non vengono pulite, che si deposita. Nel quartiere abitato da molte famiglie la nuova strada, completa di illuminazione e trasporto pubblico, sarebbe tra le priorità per i residenti, come spiega il presidente del comitato di quartiere che da sempre segue la vicenda e che pare essere bloccata per un passaggio burocratico. Noi abbiamo chiesto spiegazioni del perché la strada non viene proseguita. Inizialmente è stata bloccata per il Covid, che tutti sappiamo, ma mi rispondevano che c'è un documento fermo alla regione e se non si sblocca quello i lavori non possono continuare. Mi hanno anche assicurato che una volta firmato nel giro di orientativamente un mesetto potrebbero asfaltare, poi si aspetterebbe solo con l'auto e permetterebbe il transito delle auto. Intanto arrivano le rassicurazioni dell'assessore ai lavori pubblici Marcello Frangiamone che dichiara Il problema del quartiere stazione è seguito con attenzione dell'amministrazione comunale. Sono già avvenute una serie di interlocuzioni a seguito delle quali si è deciso di organizzare immediatamente un incontro dove sarà convocato anche l'IACP, che, spiega ancora l'assessore, è l'ente che ha realizzato gli immobili e le parti comuni tra le strade. Sono certo, dice, che insieme a Sua Eccellenza il Prefetto troveremo una soluzione.